Vediamo le notizie di cronaca di questi giorni, Donato, e vengo a te perché poi è proprio il tuo ramo questo, abbiamo visto episodi sempre più frequenti di scoppi, si dice di follia, di rabbia collettiva negli ospedali, nei pronti soccorso, quel medico questa settimana colpito con l'accetta. Natale fa paura, Natale e Ferragosto sono... Sono momenti terribili. A proposito di Natale, l'11 dicembre un uomo esce indisturbato con una pistola, anche qui è una cosa incredibile, dal poligono di tiro di Tordiquinta a Roma, così esce, prende la pistola, se ne esce, nessuno gli dice nulla e si presenta, bello bello, in una riunione di condominio, uno dei luoghi più pericolosi per tutti, lo sappiamo, però questo è pericoloso davvero, perché arriva lì, chiude la porta alle spalle e dice io vi uccido tutti e comincia a sparare. Tre donne sono morte sul colpo, una quarta o due giorni dopo in ospedale e caso rarissimo, Donato, nei giorni successivi, di solito chi fa questi gesti ha improvvisi pentimenti, non mi sono reso conto di quello che ho fatto, lui invece ha detto no, no, ce l'avevo proprio con quelle lì, c'è come dire, lo rifarei, ecco, che cos'è? Possiamo definirla solo follia? Ci farebbe comodo se fosse solo follia. Si chiama Claudio Campiti, 57 anni, ha una storia di un figlio alle spalle che lo ha in qualche modo, diciamo. Si può spiegare, si può razionalizzare, l'asteroide spiega tutto. Se ci dicessero che sta per arrivare un asteroide, sta per precipitare un asteroide sulla Terra e che abbiamo tutti 24 ore, l'ultimo giorno di vita, come ci comporteremmo? Io metterei a guardare dei film. Sì, guarda, l'asteroide parifica tutto, perché l'uomo più ricco, il capo della più potente nazione varrebbe quanto il più povero, il più umile. Poi, chiaramente, quale sarebbe il nostro comportamento? Avrebbe senso fare una buona azione, per esempio? C'è chi si stringerebbe ai familiari, c'è chi si rifugierebbe nella preghiera, e c'è chi darebbe sfogo a tutta la rabbia accumulata, a tutto il rancore, perché non avrebbe più nulla da perdere. Ci sarebbe l'azzeramento delle leggi, perché... L'asteroide di quest'uomo... L'asteroide di quest'uomo cade il primo marzo del 2012. La morte di questo figlio, 14enne, romano, in un incidente assurdo sulle piste dell'Alto Adige, con uno slittino. Quest'uomo potrebbe capitalizzare il dolore, fare del bene, invece lo accumula. E visto che non ha nulla da perdere, si trasforma anche egli in un asteroide. E precipite nella vita di questi venti innocenti. La storia la conosciamo, però ci sono degli aspetti... Però ci ha messo tanti anni, ci ha accumulato. Tanti anni... Non è stata immediata la sua... Ma c'è stata proprio un'incubazione della rabbia. Ma guarda, c'è questo comportamento. Lui che entra nel dehors di questo bar e si chiude la porta alle spalle. Si chiude la porta alle spalle. Cioè, uno che vuole fare una strage e rompe in un locale, è guidato dalla rabbia, è spinto dalla rabbia, non pensa neanche a chiudere la porta. Quella è una dichiarazione di intenti. Da qui nessuno uscirà vivo. E poi glielo dice. Vi ammazzo tutti. Non è una minaccia, è una sentenza. Quest'uomo che si fa asteroide nella vita degli altri. Ecco, questo mi ha colpito di questa visione. Donato, tu prima dicevi il Natale, no? L'hai detto sorridendo come una battuta, ma c'è del vero. Cioè, perché le feste a loro volta sono una sorta di asteroide? Cioè, ci portano a fare più i conti con i nostri problemi, con i nostri fantasmi? E si acquiscono anche le differenze. Le differenze sociali. È chiaro che il Natale porta a galla tutto questo. Ed è facile che si trasformi in rabbia. Basta fare un giro nei social in questo periodo. Basta guardare quello che accade nei social e ci si rende conto come da una parte c'è un clima natalizio finto, consueto. E poi dall'altra c'è sempre questa rabbia che cova, che aspetta soltanto la valvola giusta per sfogarsi. Uno dei pochi posti dove si può andare tranquilli è in libreria, dove potete trovare, oltre al libro di Serena di cui parleremo ancora, anche il libro di Donato Carrisi, La Casa delle Luci, che ho visto già in testa alle classifiche. Allora, mi colpisce una cosa, una curiosità che penso vorrai condividere con i nostri spettatori. Cioè, questo thriller parte da una giraffa di peluche. Ora, l'idea che uno possa scrivere un libro così, partendo dalla cosa più innocente possibile, cioè, uniscici i puntini perché non è molto facile. In realtà c'è sempre una grande ricerca, però poi tutto prende spunto dalla vicenda personale. In questo caso, mio figlio maggiore, quando era più piccolo, aveva questa giraffa di peluche nella sua stanza e indicandola diceva, ella, 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 la giraffa si chiamava Raffaella e noi pensavamo fosse il diminutivo. L'abbiamo spostata, la giraffa e lui continuavano a indicare quel punto e continuavano a dire, Al punto di prima, continuavano a dire, esattamente, sempre allo stesso punto dove era la giraffa, ella, 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 chi? Perché lui vedeva qualcosa. Chissà. I famosi amici immaginari, no? I famosi amici immaginari. E da lì parte tutto il tuo racconto, la tua storia. Certo, certo. Una bambina che ha un amico immaginario che sta diventando un po' troppo invadente e quindi viene chiamato l'addormentatore di bambini, Pietro Gerber, lo psicologo infantile, per sottoporre la ipnosi e convincere l'amico ad andare via. Solo che l'amico sa cose che non dovrebbe sapere, cose del passato dell'ipnotista. Che è già un personaggio dei tuoi libri precedenti. Insomma, merita assolutamente che... Ho già voglia di leggerlo. Sì, sì. Quindi donato sempre. Lui parla di inferni, io di paradiso.